L'omelia, anche se del matrimonio, non è un discorso tra padre e figlia o tra sacerdote e nipoti come si voglia. E vi accorgerete che il tema che hanno scelto Giuseppe e Federica per questo matrimonio è il tema del vino. Ora, direte voi, un papà che è anche diacono, poteva dire di no ad una tale scelta? Sicuramente no. Perché il vino, come ben sapete, è un simbolo eucaristico. Grazie. 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 Grazie.